E' terminato il canto del credo, raggiunti e traformati dalla Pasqua del Signore Gesù, innalziamo con gelosa. In ebraico è per il nostro Papa Francesco e per tutti. Grazie, Paoli, Andrei, Iacobi, Ioannis, Tome, Iacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, Cetatei, Buona Pasqua! Oggi, in tutto il mondo, la Chiesa rinnova l'annuncio pieno di meraviglia dei primi discepoli. Gesù è risorto, è veramente risorto come aveva predetto. L'antica festa di Pasqua memoriale della liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù raggiunge qui il suo compimento. Con la sua risurrezione, Gesù Cristo ci ha liberati dalla schiavitù del peccato e della morte. Grazie. Grazie.